La Liberi mi ha salvata due volte, prima mi ha liberato e poi mi ha salvato a costo della sua vita. Quando lui si è buttato su di me, quando è iniziata questa sparatoria assolutamente inconcepibile e inaspettata, lui si è buttato su di me e ha fatto in modo che io mi spingessi sotto il sedile e quindi fossi protetta sia dal suo corpo che dai sedili. Ed è questo che mi ha salvato, perché la pioggia di fuoco è dimostrata dalle foto della macchina e quindi lui ha pagato con la sua vita la mia salvezza. Questo è un atto di generosità incredibile e io naturalmente non potrò mai dimenticarlo, ma è una cosa che naturalmente mi addolora molto la sua scomparsa e ho conosciuto un uomo straordinario.